Era il porto di Bari, il punto di approdo della droga proveniente dall'Albania e destinata alle piazze di spaccio della Calabria. E' quanto hanno scoperto i carabinieri nell'ambito di una indagine che ha fatto luce su un imponente traffico di stupefacenti gestito da due differenti gruppi criminali, uno composto da soli cittadini albanesi, l'altro da italiani appartenenti alla comunità Rom di Catanzaro. Sono 13 le persone arrestate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. 78 invece in totale gli indagati. Le accuse sono a vario titolo di associazioni a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, estorsione e ricettazione. L'attività investigativa, condotta attraverso intercettazioni e servizi di controllo e pedinamento, è stata supportata anche dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che hanno fornito agli inquirenti un quadro preciso sulle attività di spaccio ad opera di contesti familiari di etnia Rom nell'area sud del capoluogo calabrese. In base a quanto emerso, l'organizzazione, sfruttando i contatti sul territorio, si riforniva di droga, in particolare eroina e marijuana, in Albania. Da qui gli stupefacenti viaggiavano via mare in direzione Bari. Poi, una volta sbarcati, raggiungevano le piazze di spaccio di Crotone, Catanzaro e di altri comuni delle due province. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 45 kg di eroina e marijuana, circa 70 kg di sostanze da taglio e quasi 20.000 euro in contanti.